Noi stiamo vicino alle famiglie che hanno malati all'ospedale e preghiamo anche per Natascia Pugliese e per la sua famiglia. Dall'altro lato però ogni violenza è assolutamente inaccettabile e farsi giustizia da soli è qualcosa che sta al di là di un governo e di uno Stato di diritto come quello italiano. Per cui tutto questo deve interrompersi perché gli episodi che si registrano in questi giorni ma non solo perché poi potremo allargare il tema alla scuola e ad altri ambiti della società mostrano una società che comincia sempre di più a basare i propri principi sulla violenza e questo non è assolutamente accettabile. Chiediamo a tutti pace, chiediamo a tutti dialogo e il rispetto per le istituzioni. La situazione è molto difficile con un sovraffollamento di pazienti, medici e infermieri stanchi per cui tutti dobbiamo avere più pazienza perché la situazione è difficile e a tutti chiediamo più solidarietà e più pace. Grazie. 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 Grazie.